buongiorno mondo e buongiorno pazzi vi auguro di stare molto bene e che le giornate possano essere per voi come per me meno pesanti ho aperto questo video perché un po sono incavolata nera e non sto parlando di youtube con la legge ma molto incazzata a parte le cose assurde che sono successe in italia bambini presi strappati alle famiglie tutta per una questione monetaria ma io mi domando a questo punto che calcoli si fanno che calcoli ve lo chiedo a voi giudici assistenti sociali che poi sono i primi io non dubito che ci siano assistenti sociali che facciano bene il loro lavoro ma purtroppo più passa il tempo e più mi rendo conto che è un grande schifo c'è dietro prima in primis parlando da donna ricordando il mio passato no in questo caso parlo delle istituzioni svizzere quando abitavo qui da un anno no e ovvio io avevo due figli piccoli e mi sono dovuta rimboccare le maniche mio marito si è andato dall'oggi al domani ma chi se ne frega sono cose passate e i servizi sociali invece di indirizzarmi dove poter essere aiutata che poi sono stata aiutata perché il mio caro marito non gli interessava niente di versare almeno gli assegni familiari che qua sono di 180 franchi non euro franchi al mese a figlio la fatica che ho fatto io per ricevere certe informazioni per essere aiutata grazie a dio poi ho trovato il lavoro e non ho più avuto problemi ma mi domando ma mi domando quelle famiglie in italia dove i bambini vengono strappati magari perché non riescono a ad arrivare a fine mese invece di aiutare le famiglie cosa fanno pensano bene di prendere i bambini inventandosi delle cose inventandosi delle cose a volte non dico sempre non dico adesso che sto andando contro i servizi sociali però parliamoci caso bibiano ne è un esempio e come bibiano ce ne saranno altre di cose che sono ben nascoste sotto il tappeto ecco io questo non l'accetto non l'accetto assolutamente nei tribunali trovi la legge uguale per tutti non è assolutamente vero perché se si parla di tribunali bisogna parlare di avvocati e cari miei se non si hanno i soldi in italia sto parlando se non si hanno i soldi per pagarsi un buon avvocato sei fottuto senza poi parlare di quanto percepiscono le famiglie che magari prendono in affido questi bambini tolti dalle madri sono parecchi soldi io non so in italia qui in svizzera sono a bambino sono 1600 franchi al mese allora perché invece di dare 1600 franchi a una famiglia estranea se il bambino non è stato maltrattato ma magari c'è penuria di lavoro penuria di soldi perché non aiutare la famiglia invece di dare in affidamento un bimbo e magari gli altri lasciarli ai genitori ma ci rendiamo conto io dico sono indignata veramente sono indignata perché non vi credete adesso io abito qui in svizzera e niente quando io ho divorziato praticamente che sono andata a reclamare i miei diritti ho dovuto fare un giro della madonna per trovare una persona che poi ha avuto un po di pietà perché qua si si hanno tanti doveri ma è anche tanti diritti e quindi invece di di strappare figli a madri dove magari non ci sono abusi non c'è perché quello sono d'accordo se il bambino viene maltrattato abusato per l'amor di dio però cercate di mettermi una mano sul cuore non perché avete una nomina potete fare quel cavolo che volete perché ci sono sentimenti dietro ci sono bambini che soffrono madri padri che soffrono nonni e basta basta tutte queste cose è uno schifo è riprovevole ma tanto perché poi secondo me dovrebbe essere che prima di concepire un figlio si faccia un contratto perché parliamoci chiaro i padri quanti padri stanno soffrendo perché non vedono i propri bambini perché dall'altra parte la ex donna cioè la mamma di suo figlio decide di mettersi con un compagno magari anche straniero e decide lei di non voler far più vedere il figlio ovvio si va per vie legali e qua bene o male ci aiutano per l'amor di dio se una ristrettezze economiche lo stato paga l'avvocato ma vorrei vedere in italia se succede la stessa cosa però lo stesso no siccome la madre no può fare quel cavolo che vuole perché purtroppo parliamoci chiaro noi donne se vogliamo siamo delle grandissimi bastarde cerchiamo un pretesto una qualsiasi cosa per buttare fango addosso all'uomo e l'uomo deve praticamente finché l'indagine non è non è finita vedere sua figlia quattro ore alla settimana ma vi rendete conto ma uno ragazzi non è innocente fino a prova contraria io mi sto rendendo conto un po anche dalle mie vicissitudini sto parlando di la mia nipotina che la legge prenda un po troppo sotto gamba le cose no allora la mamma si è messo con un altro uno straniero lo straniero è violento si inventano delle cose e allora la bimba non si può più vedere no finché non saranno messe a posto queste cose ma accantoniamo la mia storia che tanto io so già so già in partenza che hanno cagato fuori dal vaso scusate se sono così arrabbiata e questo video non lo sto facendo per quello che sta succedendo a noi lo sto facendo per un'altra persona e sto parlando dell'italia ho mischiato un po l'italia un po la svizzera sicuramente le istituzioni su qualche caso sicuramente avranno ragione però il problema è che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio e se una persona più di più figli e non so io adesso il motivo potrebbe essere le ristrettezze economiche potrebbero essere tante le cose ma prima di togliere un bambino a una famiglia bisogna pensarci 200 mila volte e io mi chiedo a questi assistenti sociali perché in primi sì sì siete voi voi che avete le mani in pasta voi che come dire fate partire i primi come si dice i primi scritti i giudici leggono e prendono per oro colato quello che voi dite e a volte ingiustamente perché a volte ci attaccate la delle cose e chissà quanta gente sarà d'accordo con me in questo cavolo di video cos'è stiamo diventando merce di scambio portiamo via il bambino di lì così lo affidiamo alla casa famiglia o a quella famiglia e tirate fuori fuori bolle da mille quando potreste benissimo solo aiutare la famiglia in quello che gli serve perché se in questa famiglia gli altri bimbi sono in casa vuol dire che c'è qualcosa sotto che io non so spiegarvi ma se ci fossero abusi se ci fossero cose pesanti i figli te li tolgono tutti non uno e scusate il mio sfogo ma veramente mi fanno schifo queste persone e io auguro alle persone parlo delle istituzioni parlo di assistenti sociali parlo di giudici tutta quella gente psicologi e quant'altro che se nella loro vita abbiano portato via anche solo un bambino per una questione monetaria e allora io ti auguro che nella tua vita magari un tuo figlio te stesso di passare la stessa identica cosa se non peggio con questo è tutto e buongiorno mondo e buongiorno pazzi